questa è una breve presentazione che ho preparato qualche anno fa per illustrare gli elementi di base della compatibilità elettromagnetica a dei ragazzi di un istituto tecnico ma penso che possa essere di interesse generale che cosa è la compatibilità elettromagnetica e l'interazione mutua tra dispositivi elettronici o elettrici e l'ambiente in cui operano in particolare un dispositivo può disturbare e quindi avere una emissione o essere disturbato e questo è un problema di immunità oppure come capita frequentemente lo stesso dispositivo può essere sia disturbatore che disturbato a seconda del contesto in cui lavora tanto per iniziare andiamoci a rivedere che cos'è la legge di moore e come questo ha influito sull'evoluzione della tecnologia 70 80 anni fa agli albori dell'elettronica questi erano i dispositivi comunemente disponibili le apparecchiature elettroniche funzionavano a valvole prima dell'avvento dei semiconduttori negli anni 60 la telefonia era analogica e la complessità dei sistemi era relativamente bassa la legge di moore dice che la complessità di un microcircuito ma anche di molti altri sistemi tecnologici misurata ad esempio tramite il numero di transistori per chip raddoppia ogni 18 mesi e quindi quadruplica ogni tre anni quindi seguendo questa legge che rimane piuttosto valida anche se una legge empirica siamo passati dai computer degli anni 50 dai mainframe con dimensioni di metri se non interessale di centinaia di metri quadri ai mini computer degli anni 70 ai pc ai personal computer degli anni 80 ai laptop agli smartphone e ai processori ormai inseriti praticamente in qualunque oggetto elettronico che abbiamo intorno e la complessità continua ad aumentare la dimensione continua a ridursi sempre per la legge di moore siamo passati dall'inizio del novecento a macchine elettromeccaniche le tabulatrici ibm ai primi calcolatori elettronici a valvole più o meno attorno o subito dopo la seconda guerra mondiale ai primi calcolatori e semiconduttori attorno agli anni 50 e poi progressivamente crescendo con questa legge che ci porta oggi attorno al 2020 a essere qui a ragionare di calcolo quantistico e di integrazione sempre maggiore dei sistemi sull'asse verticale vedete la velocità di calcolo che è passata da qualche operazione per secondo a 10 alla 14 10 alla 16 operazioni per secondo ormai i processori più potenti hanno una potenza di elaborazione che è superiore alla potenza di elaborazione del cervello dei mammiferi più piccoli sempre per la legge di moore siamo passati dall'8080 che del 74 che aveva circa 6.000 transistor con geometria a 6 micron ai pentium degli anni 90 con geometria a 0.8 micron e oggi siamo beh questo si parla del 2004 nel 2004 avevamo una geometria a 90 nanometri ormai si parla di geometrie a 5 nanometri nel frattempo la complessità di transistor dei circuiti integrati è passata da alcune migliaia a molti milioni e oggi siamo ai miliardi la potenza di elaborazione è passata dai circa 640.000 istruzioni secondo dell'8080 ai milioni di istruzioni a secondo eseguite giornalmente dai nostri microprocessori allo stesso modo è cambiato nei microprocessori e nei sistemi quello che è il livello di immunità un po tutti abbiamo studiato a scuola quella che era la logica ttl la logica ttl utilizza dei circuiti integrati fatti con transistor e diodi e tipicamente i livelli logici della serie ttl sono attorno a 0 barra più 5 volt con una immunità rumore della sistema grosso modo di un paio di volt ma sempre per l'avanzamento della tecnologia le tensioni di lavoro degli integrati diminuiscono e quindi passiamo da dai due volt circa di gamma logica di immunità logica del ttl ai oltre due volt del cmos ma poi scendendo fino a poche decine o centinaia di millivolt del cmos a un volte 8 e se andate a vedere attualmente le memorie installate sui pc lavorano a un volte 8 internamente a processore le tensioni di alimentazione sono ancora più basse ormai le celle dei processori lavorano con qualche centinaio di millivolt di segnale di alimentazione all'interno nel frattempo è evoluto l'ambiente all'esterno questa slide è presa da una conferenza tenuta in germania dal responsabile della compatibilità elettromagnetica di un acceleratore di particelle il desi di hamburgo mister capizza scriveva che la mia maggiolino anche se questa è una panda del 1977 aveva le seguenti parti elettriche ma se andiamo su una fiat 127 o meglio ancora un 850 di quegli anni siamo allo stesso punto aveva la batteria il generatore dinamo o alternatore il sistema di accensione magneti e puntine le lampade il clacson il riscaldamento del vetro posteriore la radio aggiungerei il taglio cristalli ma pochissimo altro mentre oggi qualunque cosa è operata in modo elettronico e ci sono molti sistemi elettronici a bordo che assistono ad esempio una moderna panda ha più potenza di calcolo incorporata siamo nel 2012 e penso già passati dieci anni che il centro di calcolo del desi nel 1977 quindi per esempio le auto sono tra i posti più difficili per quello che riguarda la compatibilità elettromagnetica poi l'autore di questa slide passava a parlare di alimentatori e dice che per un lungo tempo la maggior parte dei carichi sulla rete elettrica era lineare quindi era composta di circuiti rl c trasformatori lampade e via di questo passo oggi gli alimentatori a commutazione sono efficienti come funzionamento energetico ma creano un sacco di rumori in rete a causa del loro consumo pulsato di energia qual è l'odierno ambiente per la compatibilità elettromagnetica molto semplice voi avete un dispositivo che quello racchiuso in questo vale al centro che circondato da eventi esterni gli eventi esterni sono linee di alimentazione elettrica scariche elettrostatiche linee telefoniche radio mobili radio portatili trasporti elettrici apparecchiature elettriche e broadcast radio e televisivo dall'altra parte voi avete un sistema elettronico fatto con centralini che possono subire cross talk su linee telefoniche con reti lan che possono essere disturbate con calcolatori e altri dispositivi che sono soggetti a disturbi di vario genere parlando di compatibilità elettromagnetica si distingue fra radiatori intenzionali e radiatori non intenzionali in particolare i radiatori intenzionali sono quei sistemi che per il loro intrinseco funzionamento devono irradiare onde radio quindi stazioni trasmittenti radio am fm televisione stazioni base di telefonia cellulare radio on the core radio amatore servizi aeronautici radar sistemi di riscaldamento radiofrequenza saldatrici sistemi wifi bluetooth radiocomandi strumentazione medica e in generale tutto ciò che utilizza radiofrequenza per funzionare le emissioni dei radiatori intenzionali sono evidentemente controllate ma non eliminabili a priori dall'altra parte abbiamo i radiatori non intenzionali che sono essenzialmente tutto quello che usa l'elettricità quindi l'intermissione elettrica elettrodomestici i nostri pc le reti lan tutto quello che contiene dispositivi che funzionano onde quadro e quindi essenzialmente microprocessori controlli di motori alimentatori lo sappiamo bene relai teleruttori interruttori di vario tipo lampade fluorescenze a led contatti striscianti scariche elettrostatiche tutti questi oggetti o dispositivi contenuti negli oggetti sono intesi come radiatori non intenzionali a seconda della lunghezza d'onda su cui andiamo a parlare parliamo di interferenze condotte e radiate e andiamo a vedere che cosa significa allora questo è un classico ambiente emi io ho un radiatore che è il pc sulla sinistra la mia sorgente o un percorso di accoppiamento e dall'altra parte o una vittima che il dispositivo disturbato come avviene l'accoppiamento tra i due in questo esempio avviene tramite la rete luce ovvero il la sorgente il radiatore emette un disturbo attraverso la rete di alimentazione questo disturbo viene condotto attraverso la rete stessa alla vittima e la vittima può essere disturbata da questa sorgente questa si chiama interferenza condotta non è detto che l'interferenza sia solo condotta questo può essere un esempio l'interferenza radiata l'omino col trapano con il classico motore a spazzole sta creando due tipi di interferenza un segnale viene irradiato direttamente dal trapano stesso o dal sistema trapano più uomo che lo tiene in mano e questa interferenza può andare a disturbare ad esempio il televisore nella stanza accanto dall'altra parte il trapano stesso conduce interferenze attraverso la rete di alimentazione quindi questo è un caso in cui abbiamo interferenza sia condotta che radiata problemi analoghi si hanno a bordo dei mezzi di trasporto ad esempio sugli aerei io posso avere all'interno di aereo dell'aereo un sistema di calcolo che va a interferire con altri sistemi a causa della conduzione di interferenti sul cablaggio di bordo ma l'aereo è anche esposto a comunicazioni radio da parte di altri aerei a stazioni trasmittenti di terra a impulsi di fulminazione e queste sono interferenze irradiate che arrivano dall'esterno del mezzo stesso negli anni essendo cambiati come dicevamo prima a causa della legge di moore i livelli di immunità dei dispositivi si è ristretto quello che è il gap della compatibilità elettromagnetica ovvero negli anni la riga di sotto che è il livello di emissioni generate dalle apparecchiature è progressivamente aumentato ad esempio uno degli oggetti più disturbanti che abbiamo in giro sono i telefoni portatili dall'altro dall'altro lato i dispositivi hanno continuamente diminuito la propria immunità allora se non facciamo niente arriviamo a un punto in cui l'immunità arriva a intercettare la linea dell'emissione e non funziona più nulla quindi è stato necessario ed è avvenuto all'inizio degli anni 90 introdurre delle normative internazionali che costituiscono la cosetta direttiva di compatibilità elettromagnetica per mantenere queste due linee di immunità e di emissione distanti e separate come funzionano le norme dell'immunità elettromagnetica c'è tutta una serie di standard esistono delle direttive esistono organismi internazionali che poi vedremo che emanano queste direttive in generale le norme IMC sono divise in quattro grandi categorie tanto per cominciare emissione e suscettibilità l'emissione viene divisa fra emissione radiata e emissione condotta quindi il mio dispositivo deve essere all'interno di una maschera di emissione sia radiata che condotta e poi si fanno delle prove di suscettibilità o immunità per cui il dispositivo deve essere immune non suscettibile a certi livelli di emissione sia radiate che condotte questo tipo di prove sono parte della marcatura CE ovvero un dispositivo che contiene elementi attivi per poter essere marcato CE deve superare una serie di prove per essere adeguato a queste norme esiste storicamente un ente che il CISPR ovvero il comitato speciale internazionale per le interferenze radio perché il CISPR? perché storicamente i primi problemi di immunità e di compatibilità si sono avuti nel campo delle emissioni radio ad esempio chi è sufficientemente poco giovane come sottoscritto ricorderà bene il rumore delle candele di accensione delle auto non schermate che si ascoltava molto bene in radio quindi il CISPR è un sottocomitato dell'IAC cioè del comitato della commissione elettotecnica internazionale cosa fa? determina e raccomanda i livelli richiesti di emissione e di immunità raccomanda i limiti per i prodotti venduti nei mercati commerciali internazionali raccomanda le specifiche delle apparecchiature di prova e le procedure e metodologie che devono essere seguite per eseguire le prove di compatibilità elettromagnetica dato che i prodotti sono molti il CISPR ha dei gruppi di prodotto ad esempio il gruppo CISPR 11 emana le prove per le apparecchiature industriali scientifiche e mediche il CISPR 12 si occupa di veicoli, barche e dispositivi contenenti accensione scintilla e via di questo passo, ad esempio CISPR 15 è quello che ha a che fare con l'illuminazione elettrica e apparecchiature simili e in generale ogni gruppo di prodotti deve rispettare una serie di normative emanate dal gruppo CISPR corrispondente ad esempio il gruppo CISPR 22 che si occupa di apparecchiature informatiche emana dei limiti di emissione radiata a 10 metri a seconda del tipo di dispositivo che produco a seconda dell'applicazione di questo dispositivo a seconda della classe di utilizzo il mio dispositivo deve sottostare alle emissioni in questa maschera un massimo di 30 decibel microvolmetro fra 30 e 80 mega e secondo la FCC e secondo la CISPR 22 poi i limiti sono leggermente differenti e via di questo passo cosa vuol dire questo grafico? vuol dire che qualunque dispositivo anche conforme alla normativa può irradiare non esistono dispositivi che non irradiano esistono dispositivi che irradiano all'interno di una maschera questa maschera è una maschera di buon senso che tiene conto dello stato tecnico dell'arte di progettazione dei dispositivi e tiene conto del livello di applicazione ad esempio in un ambiente industriale classe A sono ammessi disturbi più elevati il medesimo dispositivo che è classificato per ambiente industriale ad esempio un controllo per una macchina utensile non può essere utilizzato in ambiente domiciliare residenziale perché supererebbe i limiti dovrebbe in questo caso rientrare in classe B e avere limiti più bassi ma un dispositivo che anche rientra nei limiti più bassi non è esente dall'emettere semplicemente emette nei limiti questo vuol dire che io posso avere un dispositivo che so io una radioricevente particolarmente sensibile che viene comunque disturbata da dispositivi che per la classificazione sono comunque conformi alla maschera quindi la maschera non è una esclusione assoluta di emissioni è semplicemente un limite che non devo superare ma il limite è relativamente elevato perché un segnale di 30 decibel microvolmetro vuol dire che comunque a un chilometro con un'antenna di radiomatore io lo sento allo stesso mondo questi sono i limiti di emissione condotta a seconda delle maschere a seconda delle classi a seconda della normativa ci sono diversi limiti i più bassi sono attorno nella scala sui 47 decibel microvolt misurati su 50 ohm di impedenza nella gamma delle onde corte da 500 kg alza 30 mega e poi sono più rilassati a frequenze più basse qui bisogna fare una pausa e spiegare la differenza fra radiata e condotta è una differenza puramente fittizia e per comodità di normativa allora per comodità di normativa si presume che un disturbo generato all'interno di un appartamento con estensione tipica dell'ordine di 10 metri verrà principalmente condotto sulle linee di alimentazione e difficilmente radiato mentre un disturbo sopra i 30 megahertz comincia a prevalere l'emissione radiata rispetto a quella condotta ad esempio supponete ad avere una lampada con due metri di filo quella lampada disturba molto bene quei due metri di filo sono lambda quarti a 8 metri di lunghezza d'onda quindi a 70 megahertz quindi quella lampada è collegata a un'antenne lambda 4 e 70 mega se la lampada genera un disturbo è presumibile che il massimo delle sue emissioni sia in VHF e che questo disturbo essendo a frequenza elevata viene scarsamente condotto dalla rete luce quindi il limite di 30 mega ripeto è puramente fittizio si assume che sotto i 30 mega prevalga l'emissione condotta e sopra i 30 mega prevalga l'emissione radiata questo non vuol dire che non esistano emissioni condotte sopra i 30 mega ad esempio in campo aeronautico si fanno prove di condotte fino a 400 megahertz e allo stesso modo giù in basso esistono emissioni irradiate se io ho linee sufficientemente lunghe posso benissimo irradiare anche in onde corne questa è una classica prova di emissione condotta qui vedete il limite i limiti che sono un pochettino più complessi allora il limite rosso è il cosiddetto limite di quasi picco si misura con un particolare rivelatore detto rivelatore di quasi picco che tiene conto della velocità di ripetizione degli impulsi e questo tipo di rivelatore deriva dalla telefonia il concetto era che se su una linea telefonica io ho un click ogni tanto mi disturba poco ma se ho il medesimo click a ripetizione molto alta ad esempio 10 volte al secondo il disturbo è continuativo e molto fastidioso quindi le prove in telefonia negli anni 40 50 introdussero già i rivelatori di quasi picco per stimare la quantità di disturbo data da un certo segnale disturbante allo stesso modo la normativa IMC riprende questo tipo di rivelatore allora il concetto è che per un segnale a onda continua cv doppio non modulato tutti i rivelatori hanno la medesima risposta se il segnale è impulsivo allora i vari rivelatori hanno risposta differente il mio segnale deve stare al di sotto dei limiti questo blu è il limite di valore medio questo rosso è il limite di quasi picco questa linea blu scuro è il segnale misurato in questo caso si vede che il segnale è in norma da circa un mega e alzio e mezzo in alto ma sotto il mega e alzio e mezzo progressivamente aumenta fino a sforare completamente la norma al di sotto del mezzo mega questo è per esempio un alimentatore switching di cui viene fatta una prova di emissione condotta che non supera la prova quella la riga più sotto è il fondo di rumore del ricevitore il fondo di rumore del ricevitore tipicamente è una spezzata perché il ricevitore cambia modo di funzionamento e filtri e qui ha un suo disturbo interno 0,3 mega a seconda delle frequenze è importante che il fondo di rumore del ricevitore sia ben distante del segnale che vado a misurare in modo di essere certo di misurare il segnale e non il rumore interno del mio ricevitore per fare le misure di emissioni radiate invece devo mettermi in condizioni in cui il mio dispositivo che è messo qui su un tavolo si trova in condizioni comparabili allo spazio aperto allora utilizzo una camera che può essere anecoica o semi anecoica questa è una semi anecoica cosa vuol dire vuol dire che i coni sulle pareti assorbono la radiazione elettromagnetica e simulano lo spazio aperto mentre il pavimento che è conduttivo simula è un riflettore di onde radio l'antenna ricevente che è questa si muove lungo un palo può essere alzata o abbassata e per ogni frequenza si va a vedere lo spettro alzando e abbassando l'antenna in modo da rivedere il contributo dell'onda riflessa da pavimento il limite non deve essere superato anche quando l'onda diretta e l'onda riflessa da pavimento sono in fase in pratica cosa si fa si mette l'antenna fissa e si fa una sweepata poi si muove l'antenna di mezzo metro si fa un'altra sweepata e si fanno misure così e considerando poi per ogni punto il valore massimo emesso nello stesso tipo di camera con un allestimento differente si fanno prove di immunità in questo caso questa diventa l'antenna emittente questo diventa il mio dispositivo disturbato questo giallo è un misuratore di campo tra l'altro quindi genero un segnale misuro il livello di energia che arriva a questo punto e vedo che il mio dispositivo che è questa scatola blu non venga disturbato dal segnale emesso di nuovo anche in questo caso si ha dei limiti ad esempio per le apparecchiature civili il limite di interferenza è 3 vol metro il dispositivo deve continuare a funzionare correttamente con campi interferenti di 3 vol per metro ma non è detto che non ci siano campi più intensi ad esempio un normale una normale radio portatile da radiomatori con un paio di watt di emissione tenuta a un metro di distanza fa 10 vol per metro e quindi già soltanto con una normale radio io posso allegramente superare i limiti di immunità della maggior parte dei dispositivi un'altra vista di un'altra camera schermata anecoica anche questa semi anecoica pavimento riflettente una grossa camera anecoica per prove su vegliboli e parliamo di apparecchiature di misura allora come si fa per misurare le emissioni per misurare le emissioni cominciamo con le emissioni radiate io devo avere il mio dispositivo detto EUT Equipment Under Test dispositivo sotto prova che manda segnale a un'antenda di misura dopo l'antenda di misura avrò probabilmente dei preamplificatori o dei condizionatori di segnale e poi un ricevitore quindi devo avere dei ricevitori adeguati alle misure di compliance e o degli analizzatori di spettro e poi planificatori antenne software di misura torri che sono gli movimentatori delle antenne tavole rotante tra dispositivo e software di gestione dall'altro lato per fare misure di condotte avrò di nuovo il mio EUT questa volta collegato fisicamente a un trasduttore che tipicamente è una rete LISN LISN vuol dire Line Impedance Stabilization Network ovvero rete di stabilizzazione dell'impedenza di linea è un dispositivo che fa vedere al mio EUT un'impedenza nota molto semplicemente dato che noi non sappiamo quale sia l'impedenza di rete a cui viene collegato il dispositivo l'impedenza intesa come impedenza in radiofrequenza utilizzo una rete che è la LISN femminile come rete che emula un'impedenza fissa di 50 ohm e su questa impedenza io vado a fare le misure quindi collegherò un ricevitore e ho un'analizzazione di spettro alla mia rete di misura la rete fa passare l'alimentazione di rete luce alimenta il dispositivo e vado a fare le misure condotte avrò bisogno anche qui di ricevitore di reti list di traduttori di vario genere di software di misura per l'immunità le cose si complicano perché anche qui avremo immunità condotta e immunità radiata per l'immunità radiata io devo avere dei trasmettitori e siccome non è possibile per normative fare trasmissioni in aria libera su gambe di frequenza non autorizzate e per di più ad alta potenza devo farle obbligatoriamente in una camera schermata avrò bisogno di solgenti RF di misuratore di potenza di amplificatore di antenne di software di misura e via di questo basso allo stesso modo per l'immunità condotta avrò bisogno di vari tipi di generatori di interferenza che generano disturbi verso le UT che voglio verificare ancora una parola sui costi dell'EMC perché l'EMC è importante perché è importante l'inserimento della compatibilità elettromagnetica in un sistema di qualità aziendale perché i costi di una EMC sbagliata di una compatibilità sbagliata aumentano esponenzialmente durante la vita del prodotto in altre parole mentre sono in fase di progetto di un prodotto io ho un elevato grado di libertà di progettazione avrò ovviamente dei costraenti economici da rispettare ma posso muovermi in tante maniere posso scegliere il mio progetto e in questa fase di progetto i miei costi sono ancora relativamente bassi quando arrivo a una fase di testing il progetto ormai è definito e quindi i miei gradi di libertà per risolvere problemi sul dispositivo si sono ridotti nel frattempo il costo di un intervento comincia a salire perché qualunque intervento implica di tornare alla fase di progetto e modificare il progetto se scopro i problemi in fase di produzione le cose sono ancora peggiori perché mi ritrovo con poca pochissima elasticità perché ormai ho definito il progetto ho superato il test e quindi non dovrei più avere problemi e quindi non posso neanche più fare modifiche sul prodotto quindi qualunque modifica diventa estremamente costosa qui manca una casella perché poi normalmente i problemi si scoprono quando il prodotto ormai è in field cioè è stato messo sul mercato a questo punto la possibilità di intervento è estremamente bassa devo prevedere un rientro del prodotto mentre i costi sono esponenzialmente più alti perché devo far rientrare i prodotti in casa per rilavorarli quindi è importante che la compatibilità elettromagnetica sia vista a livello di progettazione a livello di ufficio tecnico a livello di qualità nelle fasi iniziali di progetto di un prodotto quindi riassumendo l'EMC non è magia nera è solo semplice fisica è fisica della radiazione ed è elettronica di base per poter fare l'EMC sono richiesti alcuni applicature di misura qui non ne ho parlato ma ci sono due livelli essenzialmente che sono i livelli di compliance e di pre-compliance per essere compliant alla norma ho bisogno di camera nicolche e investimenti di centinaia di migliaia di euro ma per essere pre-compliant e quindi fare delle misure in casa e capire almeno a grandi linee dove si posiziona il mio prodotto sono sufficienti investimenti di poche migliaia di euro quindi usualmente è sufficiente soltanto apparecchiature abbastanza semplici quello che conta sempre in queste cose è l'esperienza quindi è una buona cosa avere esperienza ed essere confidenti nella propria esperienza l'esperienza si fa ovviamente sbagliando e scottandosi le dita non esiste modo di acquisire esperienza soltanto seguendo corsi o leggendo libri di a cominciare a lavorare non tutto può essere detto e scritto quindi l'esperienza del tecnico che conduce le prove di EMC è fondamentale allo stesso modo è fondamentale capire come funzionano i sistemi quindi avere una conoscenza di come i propri sistemi funzionano e molte volte questa conoscenza torna alle buone vecchie leggi della fisica poi è utile analizzare in modo metodico quello che succede molte volte arrivano clienti con problematiche casuali ed è molto difficile dare una mano l'utilità di un report è tanto maggiore quanto più le misure sono accurate e metodiche conviene prevedere e semplificare i problemi EMC molte volte il lavoro del tecnico che fa un debug sull'EMC è un lavoro di semplificazione ovvero si tratta di tagliare a pezzi il sistema e andare a vedere che cosa realmente genera problema scegliendo problema maggiore e ignorando i problemi minori allo stesso modo è necessario conoscere gli ordini di grandezza ovvero capire che sistemi che utilizzano correnti di microampere non possono disturbare quanto sistemi che utilizzano correnti di ampere quindi se io conosco gli ordini di grandezza dimensioni fisiche grandezze elettriche dimensioni meccaniche di quello su cui vado a lavorare posso prevedere quali saranno i punti più critici del sistema e poi è meglio efficace essere persuasivi e sorridenti ovvero chi fa l'EMC in un sistema aziendale non deve opporsi agli altri dipartimenti deve essere un servizio di consultancy di consulenza di appoggio interno che deve persuadere gli altri enti aziendali dell'importanza e fondamentalità dell'approccio EMC in fase di progettazione e poi è essenziale non scoraggiarsi mai perché i problemi si risolvono anche se qualche volta non di primo acchito questo è tutto vi ringrazio per qualunque domanda sono disponibile qui sul canale youtube domanda 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 domanda